Il garante per la privacy ha recentemente bloccato l'accesso alla pagina di chat GPT, rilevando una mancanza di trasparenza relativa al raccoglimento dei dati degli utenti. In realtà, pur non parlando di intelligenza artificiale, sul piano informatico si sta sviluppando un altro fenomeno forse molto più interessante rispetto a quello della chat che ti risolve i problemi, ed è quello dei metaversi. Ogni sera, ogni giorno e su ciascuna delle tante piattaforme ormai online è possibile assistere ad eventi di grande spessore culturale, di grande attualità, condotti da persone le cui credenziali sono assolutamente inappuntabili, che ci mettono, come si dice, la faccia e il nome, anche se poi compaiono sotto forma di avatar. Direi che questo è una delle cose dei nostri tempi che andrebbe tenuta in grande considerazione. Grazie.